Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il Grande Fratello ha subito un duro colpo con il rifiuto di un attore famoso per la nuova edizione. Alfonso Signorini, conduttore del reality show, aveva puntato su un nome importante che avrebbe sicuramente attirato l'attenzione del pubblico, ma qualcosa è storto. Secondo quanto riportato da Dagospia, l'attore in questione è Ron Moss, noto per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Moss ha declinato l'invito a partecipare al Grande Fratello, lasciando Signorini alla ricerca di un sostituto di peso. Alfonso Signorini aveva contattato personalmente Ron Moss per la nuova edizione del reality show, ma il famoso attore ha rifiutato a causa di problemi di budget, come rivelato da Dagospia. Questo rifiuto rappresenta una perdita significativa per il conduttore e per il programma. Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, il sito Lanostratv ha avanzato alcuni nomi di possibili concorrenti per il Grande Fratello. Tra questi si è parlato di Vera Gemma, Garance Auti, Cristiano Iovino, Paola Barale e Nicola Tedde di Temptation Island. La decisione di Ron Moss di non partecipare al Grande Fratello ha deluso i fan del programma, che speravano di vederlo nella casa più spiata d'Italia. Resta da vedere chi prenderà il suo posto e quali altri personaggi famosi accetteranno l'invito di Alfonso Signorini per la nuova.